Ciao a tutti, sono Spiegel, benvenuti a un nuovo video qui sul mio canale. Come vedete questo è un vlog, faccio questo video per annunciarvi un bel po' di notizie, una carrellata di notizie. La prima è questa che state vedendo in questo momento, cioè questa è una nuova postazione per il vlog, infatti non sono più una postazione che sta di là, bensì sto nella scrivania, nella mia postazione computer dove attualmente registro. Perché questo cambiamento? Perché non mi piaceva più quella. Va bene, detto questo possiamo iniziare con questo vlog. Notizia importante, come avrete notato Techcraft non sta piacendo, perché è stata sospesa per, facciamo una o due settimane. Vi ho già spiegato il motivo in uno dei video usciti nella scorsa settimana, e i motivi sono questi. Non riesco a registrare dei video che richiedono troppo impegno, perché non ne ho il tempo e non ne ho neanche la voglia, perché torno a casa è praticamente sfinito, anche perché quest'anno hanno cambiato l'orario, e poi ci stanno riempendo di verifiche e di interrogazioni per stare tranquilli a gennaio, però in ogni caso a novembre o dicembre ci stanno praticamente torturando. Quindi Techcraft rimarrà sospesa per due settimane circa, uno o due settimane, o comunque usciranno pochi episodi in queste settimane. Qualcosa da far uscire perché mi da un po' fastidio non fare uscire niente, anche perché è una serie abbastanza seguita, anzi è la più seguita del canale mi sa, e quindi non avrebbe senso non farlo uscire. Un'altra notizia importante, e questa è veramente importante, è che c'è la possibilità che reintegri la scheda di un giornaliero, cioè cosa vuol dire? Mi è venuto in mente che in questo momento sarebbe molto utile per registrare dei video, invece che registrarne uno al giorno per esempio, per caricarli un giorno dopo, registrarne direttamente sei o sette, poi caricarli piano piano uno dopo l'altro, e mettere una schedule in modo tale che voi e anche io siamo già informati, insomma, ci sia già una tabella in cui poter vedere che cosa uscirà in quel giorno, serve a voi per vedere cosa vi interessa e cosa no, serve anche a me per regolarmi per le registrazioni, tipo se io faccio quattro registrazione di una custom map e tre di random play, so già che le farò uscire in modo alternato, e questo me lo scriverò in questa tabella che mi servirà per ricordarmi cosa deve uscire, che puntata deve uscire esattamente. Questa schedule la pubblicherò nel sito, per adesso non è ancora detto, quindi vi farò sapere più avanti. Passiamo all'altra notizia, questa è un'altra notizia abbastanza importante, infatti stavo pensando di creare un'altra serie di Minecraft moddato, però questa serie di Minecraft non può essere uguale alle altre serie, quindi avevo intenzione di creare una serie di Minecraft moddato, però non tecnico, non troppo tecnico, ecco. Avevo intenzione di usare uno di quei pacchetti in cui c'è la magia, ci sono delle cose che ancora non abbiamo fatto in nessuna delle serie di Minecraft, e vorrei iniziarlo perché credo che nel mio canale ci debba essere più varietà anche in Minecraft. Più amanti in questo vlog scoprirete che nasceranno nuove serie per aumentare la varietà del mio canale a livello over 9000 proprio praticamente. Questo perché mi è stato richiesto su Facebook. Un'altra richiesta che mi è stata fatta su Facebook è quella di inserire nel sito un form anche per la richiesta di custom map per Minecraft. Infatti lo farò anzi, probabilmente quando vedrete questo vlog nel mio sito sarà già presente questo form. Come sapete nel mio sito c'è un form per la richiesta di giochi da proporre per random play, che è la serie in cui gioco dei giochi consigliati da voi. Ci faccio un episodio solo insomma. Naturalmente se il gioco mi piace o se me lo chiedete a voi ci faccio una serie poi. Oltre a questo infatti mi avete consigliato di mettere in conformo per le custom map e sono d'accordo con voi, non ci avevo pensato e lo farò sicuramente. Una notizia è quella di un'altra nuova serie. Si lo so, sto creando nuove serie praticamente ogni 5 secondi, però è importante perché ho bisogno di creare molta verità, cioè ho bisogno di presentarvi un canale, di proporvi un canale in cui voi entrate nel canale e decidete oggi guardo questo, quest'altro, quest'altro. Naturalmente tutte queste serie non potranno alternarsi un giorno un giorno un altro, quindi ci saranno due o tre video giornalieri. Credo più due che tre perché tre mi sape un po' impossibile. Questa serie tratterà un gioco FPS, quindi first person shooter, quello uno sparatutto, giocabile anche online, farò delle partite online praticamente. È un gioco molto famoso ma ancora non vi dico il nome. Vi dico soltanto che sono un bel po' impedito con la tastiera e con il mouse. Infatti provvederò proprio a un controller USB perché con il mouse e con la tastiera praticamente sono una pippa proprio. Quindi sarei più propenso a comprare un controller che mi aiuti nel procedimento. Allora, un'altra notizia. Questa è la notizia di cui ho parlato prima, la nuova serie, quella pilota. È una puntata pilota che mi dimostrerà se mi interessa oppure no questo argomento. Ho intenzione di creare una nuova serie sull'elettronica. Cosa intendo per elettronica? Allora, piccola premessa. Io frequento una scuola a indirizzo informatica e telecomunicazioni. Io scelgo l'indirizzo telecomunicazioni che in realtà comprende anche l'informatica, quindi programmazione. E con telecomunicazioni comprende anche elettronica, progettazione di sistemi. Insomma, roba abbastanza interessante. E visto che mi piace molto, sono sicuro che se facessi dei video di questi argomenti, li farei con molta passione e quindi uscirebbero molto bene. Allora cosa ho fatto? Allora, io ero già proprietario di un sistema Arduino, che sarebbe un circuito già pronto nel quale è presente un microprocessore, in alcuni una scheda di rete e molte, molte uscite input ed output, comandabili attraverso appunto il processore che ha una memoria interna nel quale si possono caricare dei programmi che si creano col computer tramite un linguaggio di programmazione che si chiama processing. e ho pensato, perché non farci una serie? Però per farci una serie, per farci dei video, insomma, avevo bisogno di dei materiali di elettronica. Quindi cosa ho fatto? Sono andato su eBay, ho cercato un bel kit, ne ho trovato uno veramente bello, un kit di 600 oggetti tra resistori, insomma di tutto, proprio di tutto, sensori, e anche un display da 32 caratteri, 16 per riga, due righe, e proprio led, led rossi, blu, bianchi, verdi, rgb, di tutto, proprio di tutto, motorini, pulsanti, interruttori, e quindi addirittura possiamo controllare gli apparecchi che vanno a 220 volt, quindi quelli domestici. Insomma, molto roba interessante, con cui si possono fare dei progetti molto interessanti, per esempio domotica. Addirittura questo commerciante, il regalo, offre una specie di arduino, come si dice, tarocco, che mi interessa avere, perché? Perché nei progetti che farò con voi saranno progetti molto azzardati, quindi non vorrei bruciare l'arduino originale, perciò lo userò tipo una specie di test. Farò il video con l'arduino tarocco, poi se tutto funziona, alla fine del video, utilizzerò l'arduino vero e proprio, che puoi utilizzarlo per fare il progetto. Ho delle idee in mente, che vi potrebbero interessare, che a me interessano sicuramente. Quindi, spero che mi interessi questa serie, perché io ci metterò veramente tutta l'anima e il cuore, perché è una cosa interessantissima che mi piace a me e spero che piaccia anche a voi. Va bene, passiamo alla prossima notizia. Un'altra notizia importante è quella della ripresa di alcune serie. Cosa vuol dire? Alcune persone mi hanno chiesto di ricominciare delle serie che avevo chiuso tempo fa, o che avevo messo in pausa. Un esempio di queste serie è assolutamente Splinter Cell. Qualcuno mi ha chiesto, qualcuno intendo 5 persone esattamente, mi hanno chiesto di ricominciare Splinter Cell da dove ero arrivato, perché il gioco era veramente... cioè, lo apprezzavano, ecco. Ho deciso di farlo anche perché le stesse persone poi mi hanno chiesto di ricominciare un altro gioco, che ho messo in pausa da poco, nel che tanto. Si tratta di Dead Space. Anche Dead Space è molto interessante. A me piacciono tutti e due i giochi. Li avevo messi in pausa semplicemente per il fatto che mi ero fatto prendere dall'entusiasmo di una nuova serie in single player. Insomma, era allora la Techcraft stagione 1, se non sbaglio. Si, la prima stagione di Techcraft, che tra l'altro era la mia prima serie in survival in single player. Cioè, era la mia prima serie in assoluto di Minecraft che non fosse una custom app, insomma, un giochino multiplayer. Quindi, niente, sono stato molto... sono rimasto molto contento per il fatto che mi abbiate richiesto questi giochi, che anche io volevo già ricominciare di mio, però non avevo il giusto impulso. E quindi, niente, mi avete aiutato moltissimo. Ed eccoci all'ultima notizia, che è quella di un'altra nuova serie. Si, lo so, ho creato 50 serie in questo vlog, però vi assicuro che le porterò a termine tutte. Questa serie tratterà un gioco molto interessante, che è Assassin's Creed. Questa serie mi è stata gentilmente richiesta da due persone che conosco proprio di persona. E una persona che invece non conosco, che me l'ha richiesta sui messaggi di Youtube addirittura. Cioè, non ci sono mai entrato, mi è venuta l'idea di entrarci e ho trovato questa richiesta. E la voglio accogliere perché mi piace troppo quel gioco. Mi piace veramente tanto. E quindi ho deciso di farla. Questa serie la voglio iniziare al più presto possibile. Perché è una delle serie che fare lo stesso con il cuore. Perché proprio quando a me piace una cosa e ci faccio un video, il video esce bene. Perché? Perché mi è piaciuto registrarlo, mi sono divertito nel registrarlo. E quindi il video esce assolutamente bene. Detto questo, queste erano le ultime notizie. Spero che questo video vi sia stato di interesse e vi sia piaciuto. Io sono Spiegerontotto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi e condividete. Mi trovate sempre su Twitter, Google Plus o sul mio sito spiegerontotto.x10.mx nel quale metterò il nuovo form. Ricordatevi, metterò anche il link in descrizione se mi ricordo con la mia memoria poi. E niente, io sono Spiegerontotto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!